Probabilmente questa è l'altra su cui sta viaggiando. Non mi muovo, non mi muovo. Ehi, buonasera. Sì, vieni. Lotti? Io sì, perché ti sto rispondendo. La chieste invece si sta un po' più distante per prendere i carichi benissimi che stanno in grado. C'era la moglie del... C'era la moglie del genere.